puntuali come tutte le mattine c'è la rassegna stampa su fano tv sono le 7 buongiorno e dalla redazione benvenuti a occhio ai giornali allora cominciamo subito dal santo di oggi lo vediamo con il cartello e poi il tempo oggi è san gazziano di tours il sole è sorto alle 7 41 e tramonterà le 16 32 adesso andiamo a vedere il tempo previsioni per oggi come sempre dal sito della protezione civile delle marche cielo nuvoloso con in particolare nei settori collinari e costieri con prevalenza di nuvole medio basse dal pomeriggio aumento della copertura anche nel settore centro meridionale della regione temperature senza variazioni di rilievo un po di venti sulla costa domani sabato 19 dicembre ancora cielo parzialmente nuvoloso con presenza di nuvole basse e domenica più o meno la situazione è identica anche qui nuvole che però si dissolveranno nelle ore più calde della giornata di domenica le temperature stazionarie oppure in lieve aumento nei valori massimi tempo stabile anche nella prima parte della prossima settimana e allora ci siamo oggi è il grande giorno il grande giorno per i marchigiani il grande giorno ci rivolgiamo in particolare i pesaresi agli urbinati che ci seguono in questo momento perché oggi da oggi parte lo screening lo screening di massa lo ricordiamo adesso lo vedremo anche nel dettaglio è un momento importante perché avrete i cittadini residenti nel comune di pesaro e anche quelli di urbino così come tutti quelli che ci guardano dei centri più importanti delle marche sopra i 20.000 abitanti oggi avrete la possibilità di farvi testare quindi di vedere se siete positivi o no e quindi è su base volontaria è una iniziativa importante che durerà anche nei prossimi giorni l'obiettivo come vedremo è quello di fare uno screening il più possibile ampio per avere un quadro dettagliato e soprattutto evitare che ci siano asintomatici che vadano in giro a contagiare persone allora iniziamo allora la nostra rassegna stampa con il corriere adriatico edizione di pesaro screening incognita adesioni allora la macchina organizzativa è pronta resta il rebus della partecipazione su base volontaria la zona rossa delle feste le marche si preparano a tornare in apnea dal giorno della vigilia ma il la foto notizia del il corriere adriatico è per i nostri vicini di casa quelli di san marino che hanno deciso di tenere i ristoranti aperti l'ultimo dell'anno che beffa titolo il cenone a san marino poi le altre notizie sotto l'albero spunta pesaro l'aumento della tassa della tari i comuni d'accordo pesaro addobbi e giochi sotto sequestro non sono a norma c'è un sequestro della guardia di finanza e poi sempre da capoluogo di provincia allarme della polizia conti correnti ripuliti dopo falsi messaggi attenzione andremo a vederlo poi nel dettaglio questa notizia maxi fusione invece parliamo di confindustria maxi fusione ascoli fermo ancora pesaro aria di accordo di taglio basso ricostruzione dell'ex scuola carducci a fano vitre studio vince il concorso terzo classificato l'ingenium di sant'ippolito confronto tra provincia e dirigenza del nolfi andiamo a vedere il carlino il carlino di pesero allora la foto notizia anche qui è per i tamponi che partiranno da oggi tamponi pronti via oggi iniziano i test di massa appello di acquaroli fateli sono la nostra arma titolo conti correnti i vampiri crescono i prelievi online tramite il pishing o altri trucchi impennata di denunce alla polizia postale dagli asili agli anziani aspes ora punta ai servizi sociosanitari gli interessi della società partecipata pesarese poi l'azienda di fossombrone la dondap parliamo di moda timori per la vendita la nuova terapia invece anti covid di uno scienziato durantino da urbagna agli stati uniti grande star al concerto di santo stefano in onda su re 2 registrato al teatro rossini e poi magnini lo sport nuoto oggi a riccione punta al pass per le olimpiadi e il calcio di serie c vis senza i big per lo spareggio con l'arezzo lazari e marchi infatti sono ko poi qua sotto invece fiamme nella villetta fano nel notte di paura fenile non voleva pagare le spese legali perde la causa con il comune di pesaro pignorato il suo stipendio andiamo a vedere anche il carino di ancona benvenuti al pala tampone la fotonotizia scatta oggi lo screening di massa anti covid ecco come funziona e poi nella rsa di senigallia 90 casi di nuove infezioni ora è allarme andiamo a vedere nel dettaglio perché importante questa operazione quindi per dedichiamo qualche minuto in più per coloro che ci seguono da pesaro e nell'interland e quelli che ci seguono da urbino che oggi da oggi e che sono magari ancora titubanti non sanno se farlo e soprattutto non sanno cosa devono fare allora che cosa potete fare ve lo diciamo subito e fate attenzione allora da questa mattina alle 8 cioè tra poco tra un'ora per chi ci segue in diretta apriranno i cancelli di questi tre siti a pesaro ci sono tre siti individuati a pesaro e due in urbino nei quali potrete fare i tamponi antigenici rapidi chiaramente su forma volontaria gratuita non dovrete spendere una lira dovete solo decidere se farlo oppure no come fare andate lì dalle 8 alle 13 e poi oggi pomeriggio dalle 15 alle 19 questo lo potrete fare fino al 23 di dicembre ma non aspettate l'ultimo minuto facciamolo subito fatelo subito allora l'obiettivo qual è l'obiettivo è mappare almeno 28 mila cittadini residenti a pesaro e nell'internal e 8 mila cittadini urbinati i circa 100 operatori dell'asuro impegnati nello screen di massa verranno suddivisi in varie postazioni ci saranno ci vorranno poi attenzione se farete questo tampone ci vorranno 15 30 minuti per ottenere la risposta chi avrà un primo esito positivo verrà isolato in un'area separata ma non facciamoci prendere la paura non c'è problema uno viene messo da una parte giustamente in un'area di accoglienza all'interno della vitrifrigo oppure all'interno delle due scuole che sono a pesaro stati identificati per questi tamponi dovrà poi attendere 24 48 ore prima di essere ricontattato dall'asur a domicilio al telefono per dire qual è il risultato del tampone e dal momento della rilevazione ovviamente della positività al test dovrà entrare in isolamento fiduciario cioè se voi adesso questa mattina andate lì fate questo tampone antigenico veloce tempo 15 minuti 20 minuti avete la risposta se è negativo tutti felici e si va a casa se invece è positivo allora bisogna fare il tampone molecolare che verrà fatto subito quindi non è che dovete ritornare fare giri eccetera verrà fatto subito poi aspettate 24 48 ore prima di ricevere la telefonata dell'asur a casa che vi dirà il tampone è stato confermato positivo oppure ci siamo sbagliati era negativo ora dove si fa e qui attenzione sempre dal corriere adriatico l'articolo di thomas del bianco che ha ricostruito e quindi leggiamo il suo pezzo allora la città di pesaro è stata divisa in tre zone ognuna delle quali farà riferimento ad uno dei siti allora alla vitrifrigo arena devono possono andare i cittadini che risiedono a soria a tombaccia vismara cattabrighe san bartolo villa fastigi villa ceccolini borgo santa maria e case bruciate mentre al campus scolastico andrà chi abita a pantano villa san martino cinque torri celletta santa veneranda colline monte ciccardo all'alberghiero santa marta invece dovranno andare i residenti nei quartieri di centro mare porto muraglia monte granaro ok mentre il campus facciamo un passo indietro il campus sarà dedicato anche a tutte le persone con disabilità a prescindere dalla residenza quindi chi ha disabilità non deve andare nei posti che abbiamo ma deve andare al campus poi c'è da dire anche questo che non possono fare questi tamponi chi ha già percorso iniziato un percorso di controllo va bene e poi sono esclusi anche coloro che sono già positivi che devono mantenere dunque la quarantena e poi tutti i bambini sotto i sei anni e coloro che hanno malesseri o sintomi influenzali va bene quindi se avete tosse raffreddore un po' di influenza 37 5 eccetera non potete andare a fare questi test antigenici veloci va bene allora quindi mi raccomando tamponi via non è una patente per natale dal carlino scatta oggi il maxi test nei centri più grandi delle marche acquaroli dice l'obiettivo arrivare al 70 per cento della popolazione marchigiana mentre primi in italia dice salta martini l'assessore alla sanità lo screening dice serve è sicuro e anche di buona qualità ora invece per tutti gli altri cioè per tutti insomma anche per quelli che non oggi non sono chiamati a fare questo gesto che secondo me è anche un gesto di generosità oltretutto farsi avere la possibilità di fare questo tampone allora per tutti diciamo e vale per tutti questa 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 ipotesi che si sta ancora vagliando al governo non ci sono ancora date cose certe definitive però insomma si sta discutendo su come affrontare i prossimi giorni allora l'idea è quella di far diventare di nuovo l'italia zona completamente rossa ma soltanto in alcuni frangenti in alcuni giorni tipo 19 20 dicembre che sarà l'ultimo weekend libero quello che parte domani perché poi appunto ci saranno queste giornate di chiusura totale stop ai viaggi tra regioni 21 23 sono tutte ipotesi e non non è nulla di ufficiale vi stiamo leggendo un articolo che parla di ipotesi poi 24 27 dicembre il blocco totale di tutto praticamente tutto chiuso tutti in casa quindi anche qui senza farsi prendere dal panico uno faccia i suoi conti nel senso dal panico nel senso che prende d'assalto il supermercato perché pensa di avere tre giorni di supermercati chiusi con certamente anche qui bisognerà ragionare su come organizzare la vigilia il natale santo stefano perché sono tre giorni in cui se confermato se confermato saremo rossi quindi tutto chiuso e di conseguenza tranne i servizi essenziali lo ricordiamo a parte le farmacie insomma che saranno quelle di turno tutte queste cose qua però chiaramente il supermercato natale sarà chiuso così come sarà chiuso il giorno di santo stefano ma questo lo sarebbe stato anche in tempi normali quindi organizzarsi anche da questo punto di vista ma senza farsi prendere troppo dalla paura poi sotto per esempio si il 28 il 30 invece potrebbero essere giorni in cui si riapre e si torna ognuno al colore di riferimento quindi le marche tornerebbero ad essere gialle 28 29 e 30 poi di nuovo chiusura si sta pensando di nuovo un lockdown dal 31 quindi per evitare i cenoni le feste e quant'altro fino al 3 di gennaio e la scuola riapre invece il 7 di gennaio questa è un po la linea che si sta discutendo mentre come abbiamo visto zaia chiude invece il veneto già da domani acquaroli invece non pensa a fughe in avanti scrive il corriere adriatico ma tre giorni di tregua tra il 28 e il 30 poi di nuovo lockdown fino al 3 di gennaio le date appunto le abbiamo viste dal 24 al 27 tutte le regioni in zona rossa dal 28 al 30 allentamento quindi si torna in zona gialla poi dal 31 al 3 gennaio tutte le regioni di nuovo in zona rossa scendono ancora invece ricoverati l'RT pre natalizio è un po salito nelle marche l'indice di contagio siamo a 09 ma comunque sempre sotto l'uno che è il dato importante da tenere sempre in considerazione stabile il rapporto giornaliero nuovi positivi tamponi sono 448 su 1830 ieri purtroppo ci sono state altre 13 vittime e c'è un focolaio da registrare anche nella casa di riposo di Corinaldo dove ci sono ben 19 contagiati ora San Marino invece va un po per i fatti suoi ma teniamo conto che è vero che è una repubblica a parte prestigiosissima straordinaria tutto quello che volete però parliamo sempre di un piccolo paese insomma che ha la sua storia tutto quanto ma San Marino sta facendo arrabbiare gli italiani perché perché ha deciso di tenere aperti i ristoranti l'ultimo dell'anno quindi si potrà fare il cenone ma attenzione non è che gli italiani quelli di Rimini questi che stanno qua nel nord delle marche potranno andare beatamente liberamente a cena a San Marino no non potranno gli italiani andare a San Marino infatti la festa è solo per i titani da Rimini sarà vietato muoversi per il 31 dicembre dunque ristoranti che saranno aperti fino all'una e trenta di notte Natale e Capodanno senza cenone in mezza Europa ma non a San Marino anzi il governo della repubblica a due passi da Romagna e Marche rilancia i locali del titano per brindare al nuovo anno potranno rimanere aperti fino all'una e trenta quindi un'ora e mezza in più rispetto a quanto sin qui concesso a bar e ristoranti lo dice l'ultimo decreto del governo anticipato dalle parole del segretario di stato alla sanità Roberto Ciavatta senza rinunciare a qualche stoccata ai colleghi italiani purtroppo non ci sono delle misure che scientificamente garantiscono una diminuzione dei contagi ha detto molto del dibattito attorno alle misure è usato appositamente per fare polemica spesso e volentieri lo vediamo in Italia di matrice politica quindi la buttano sulla politica Marche Nord aggiunge i letti invece mentre a San Marino aggiungono un posto a tavola noi aggiungiamo i letti di rianimazione e qui siamo a San Salvatore di Pesaro 20 nuovi posti che speriamo restino vuoti che facciano la muffa e le ragnatele a fine mese collaudo e dotazione allargata per le terapie intensive torrette obiettivo invece è aprile ospedali riuniti validati i progetti c'è da attendere anche fermo iesi insomma qua si sta pensando a quella che potrebbe essere la terza ondata perché non dimentichiamoci che poi c'è anche l'influenza quella che notoriamente arriva nei mesi più freddi quindi da gennaio in poi e anche questa è un'incognita una tantum gli stagionali per gli stagionali gli ristori all'ultimo rascio le altre misure proroga il blocco dei licenziamenti sospesi mutui della prima casa rimborsa e chi sconta gli affitti andiamo a vedere allora questo a proposito del decreto ristori 5 che cosa prevede in maniera molto sintetica intanto queste sono le principali misure il blocco dei licenziamenti che è prorogato fino al 31 di gennaio non si potrà non si potrà licenziare nessuno al poi la cassa integrazione in deroga altre sei settimane i lavoratori in cassa integrazione autonomi e professionisti possono chiedere la sospensione del mutuo prima casa fino al 31 dicembre del 2021 e poi c'è questa una tantum da 1000 euro per gli stagionali inseriti nel settore del turismo e dello spettacolo e 800 euro per i lavoratori dello sport anche questa è un'altra cosa importante contributi a fondo perduto invece per attività colpite dal covid adesso chiusa la parentesi covid andiamo a vedere invece la pagina 18 del resto del carlino abbiamo anche questa mattina selezionato ovviamente le notizie non tutte le pagine e poi come sempre ci limitiamo un po a commentarle e a leggere i titoli la don d'app che sta per passare di mano è un marchio di moda molto famoso conosciuto di prestigio nel mondo e questo marchio di moda sarà acquistato da un fondo italiano allora si è ad un passo scrive sempre gennari sul carlino di questa mattina dal chiudere per il passaggio del marchio di abbigliamento don d'app di fossombrone alla cui presidenza c'è matteo marzotto al fondo di investimenti made in italy found creato dal quadrivio e pan bianco che ha come obiettivo di investire e valorizzare le piccole e medie industrie eccellenze del made in italy una notizia quella riguardante questo passaggio di mano che ha messo un po in allarme i dipendenti di questa casa di moda fondata da massimo berloni e dalla moglie manuela mariotti vent'anni fa però nei giorni scorsi sono stati rinnovati i canoni d'affitto e quindi probabilmente insomma non c'è da temere il granché però chiaramente insomma i sindacati e tutto il resto vogliono sapere se questo passaggio di mano comporterà anche qualche sforbiciata qua e là però insomma l'importante che si resti nel territorio i capannoni sono degli affitti sono stati rinnovati per cui i segnali positivi ci sono attenzione invece questa è una notizia sulla quale bisogna un attimo soffermarsi un po perché perché in questi giorni in queste settimane stanno arrivando nella casella di posta elettronica molti messaggi che sono messaggi fuorvianti finti fasulli che vengono definiti pishing dove il tenore di questo messaggio è più o meno stiamo registrando una serie di tentativi di accesso anomali al conto corrente clicca qui sotto per confermare i tuoi dati ora quando uno riceve un messaggio così nella casella di posta elettronica con un messaggio che sembra veramente arrivare dalla propria banca dal proprio istituto di credito chiaramente uno non sta a pensare alla truffa e quello e quell'altro uno di getto che cosa fa clicca clicca sul link che viene fornito in questa in questo testo e chiaramente lì inizia il problema inizia la truffa perché quel clic aprirà una pagina che chiaramente non è la pagina della vostra banca ma è la la pagina dei truffatori che è mascherata ovviamente da pagina ufficiale di una banca o di un istituto di credito voi cosa fate seguite le istruzioni mettete i dati mettete la vostra magari carta di credito il vostro è e lì è fatta non fate altro che comunicare tutti quei dati strasensibili che consentiranno poi ai truffatori di entrare nel vostro conto corrente e di prelevare i soldi a vostra insaputa ora che cosa bisogna fare un po come quando si cerca di evitare i truffatori che entrino dentro casa e vadano poi con la scusa del bicchiere d'acqua e il complice va a cercare negli armadi o nei cassetti del comò della camera da letto la cosa da fare è semplicemente questa mettersi in testa che le banche non chiedono mai i dati mai chiederanno i vostri dati le banche non mandano mai email dove chiedono i dati possono mandare email per dirvi o farvi proposte offerte su su cose eccetera che riguardano il conto corrente ma non chiedono mai i vostri dati quindi se state scrivendo digitando sulla vostra tastiera i vostri dati della carta di credito per comunicarli alla banca sappiate che state facendo state subendo una truffa quindi questo è importante in questi giorni più di 30 mila euro sono stati rubati un po da da ogni conto corrente qua e là la pagina di fano invece del carlino di questa mattina è sulla sull'incendio che ha colpito una velletta in un quartiere di fano che è fenile dove c'è stato un po di paura la notte scorsa intorno alle 23 e 30 di mercoledì sera quando la casa di questi coniugi santini si è riempita di fiamme e di fumo ricostruzione invece dell'ex carducci vitre studio vince il concorso terzo classificato l'ingenium di sant'ipolito confronto tra provincia e dirigenza del nolfi anche il corriere poi riporta la notizia della dell'incendio a novilare a fenile scusate poi i re del carnevale festeggiano nonne velina la famiglia pacassoni celebra il secolo di vita della donna che ha contribuito a crescere la storia della manifestazione più amata la sorpresa e beffe invece a pesero sotto l'albero via libera all'aumento della tari la tariffa dei rifiuti suberà un ritocco per i pesaresi del 2,5 per cento in tutti i comuni la rabbia di cisle e cgl i sindacati che dicono questo chiaramente è un momento sbagliato per aumentare le tasse sequestrati giochi pericolosi oltre 10 mila articoli tra cui anche addobbi natalizi ritenuti un rischio per la salute a urbino ricerca anti covid paiardini brilla negli stati uniti lo studioso durantino che voleva fare il ragioniere per poi cambiare idea laureandosi ad urbino in biologia nel team di punta per il farmaco mirco paiardini ha 48 anni è di urbana laureato all'università di urbino in scienze biologiche e attualmente professore alla university emory di atlanta e ha condotto uno studio che dimostra l'efficacia di una nuova strategia terapeutica per i pazienti covid con covid 19 e quindi lo studio apporta anche questa firma e dimostra efficacia su anche sugli animali una fornaia invece questa è la cronaca da urbino si schiaccia la mano destra mentre stava lavorando mentre stava pulendo la macchina della pasta l'infortunio avvenuto ieri mattina alle 6 18 a Caglia il pastificio Lazzarini la dipendente è stata poi portata all'ospedale di torrette di ancona dalla valmetauro invece crepe nel controsoffitto della scuola primaria bambini che adesso sono costretti a casa nessuna però emergenza fossombrone il sopralluogo dei tecnici all'occhialini ridimensiona un po l'allarme incerto però il ritorno nelle 14 classe sindaco irritato dai commenti sui social non si può strumentalizzare tutto botte invece fino a farle perdere i sensi a giudizio marito violento accogli al metauro salvata dagli amici incosciente portata via di peso prima che potesse essere troppo tardi è una storia di violenza consumata accogli al metauro precisamente a calcinelli che ieri è finita davanti al collegio del tribunale di pesero lui è un marocchino di 32 anni oggi agli arresti domiciliari è finito a processo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia lesioni e tentata violenza sessuale nei confronti della sua donna insomma della persona con la quale sta e tutto questo è successo in una serata estiva di luglio poi da valcesano itinerari della bellezza portata di clic attivata all'app per scoprire la provincia l'utilizzo è gratuito si naviga in italiano e in inglese varotti dice una vetrina per ben 12 comuni poi a Mondolfo l'albero all'uncinetto è il simbolo del paese realizzato da 20 donne sulla scia dell'iniziativa partita da Trivento il concorso è ormai in scadenza a Senigallia circa 90 positivi nella RSA ci sono casi di reinfezione sono triplicati i casi da covid all'operapia il focolaio si è acceso in 20 giorni il virus attacca anche quella di Corinaldo il 27 novembre il primo positivo una settimana fa invece erano già 34 il presidente Pi che dice rispetto alla prima ondata solo il 5 per cento è sintomatico poi i medici usca i miei angeli contro il covid nel centro arriva anche un nuovo ecografo e questa era l'ultima notizia della nostra segna stampa di oggi io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione vi ricordo oggi alle 18 e 30 l'appuntamento con una babbo natale in diretta con tutti i bambini e poi alle 20 e 30 l'informazione con occhio alla notizia il nostro telegiornale grazie per averci seguito mi raccomando anche il numero di telefono da segnare al vostro cellulare per le segnalazioni che per noi sono sempre straordinariamente importante ci danno la possibilità di fare un telegiornale sempre più curato attento preciso con tutte le notizie che ci fornite anche voi grazie alla vostra collaborazione a voi tutti l'augurio di una buona giornata